Di che carattere sei? La rubrica in cui parliamo di come scegliamo i font Font, caratteri tipografici, Cristian Ok, perché non si tratta solo di scorrere la lista Ma di scegliere in base a quello che esprimo Allora, oggi ti propongo, Cristian, il Thirsty Script Thirsty? Thirsty? Assetato? Assetato, assetato Eh, bel font, bel font, bel font Se non lo conoscete, Google Font Allora, è fluido, molto morbido È un po' anni 60 50-60 50-60 Rockabilly Come diremmo adesso Allegro comunque Allegro, controverso Perché se lo usi con i titoloni grossi Anche per una cosa seria A volte sta bene Sì, allora, diciamo che è uno di quei font Che anche se ha una bella connotazione 50-60 Se usato bene, sta bene un po' ovunque Molto magliette Magliette figo Si, il merchandising Un po' college Sì, sì, molto Fa pensare un po' college Sicuramente una fascia A Porchis Il film Porchis Oddio È un pochino Una fascia da conto Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ce l'ho Elvis Presley In questa rubrica ci scherziamo su Però la scelta dei font è una cosa importante Perché se sbagli i font rovini l'intero progetto È come mettere il sale nel caffè Mmm